A un mese esatto dal provvedimento che ha smosso gli animi di una città intera, Termoli e di una regione, il Molise, già provata da tagli, spending review, record sulle addizionali, il popolo ottiene una vittoria. Le mamme e i sindaci del Basso Molise hanno avuto ragione. Il punto nascita dell'ospedale Santimoteo non chiuderà. Il Tar, al termine della Camera di Consiglio seguita all'udienza del 24 luglio, ha deciso di accogliere il ricorso presentato da 13 amministratori contro il decreto con cui il 26 giugno scorso il commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini imponeva la chiusura del servizio. L'ok in realtà è sulla richiesta di sospensiva perché nel merito si entrerà nell'udienza fissata l'8 aprile 2020. Esultano i cittadini che in queste settimane si sono fatti sentire con appelli e manifestazioni di piazza. L'ultima in ordine di tempo è stata quella di domenica scorsa. Fiaccole alla mano, i termolesi hanno chiesto ancora una volta a gran voce di poter continuare a far nascere i propri figli nella loro città. Il ricorso è stato curato dai legali Iacovino, Romano, dalla struttura legale di Consumer formata da Venitelli e Giammaria. Anche la regione si è schierata con i ricorrenti e in udienza era rappresentata da Alberta Delisio. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, aveva annunciato qualche giorno fa che nel caso in cui la decisione dei giudici fosse stata proprio questa, avrebbe chiesto le dimissioni di Giustini e dei vertici dell'ASREM. Una provocazione a cui hanno fatto eco anche le prese di posizione del Comitato Santimotio, recentemente intervenuto sull'altra criticità riscontrata in ospedale, quella del reparto di ortopedia, a rischio chiusura ancora. Prima a commentare l'esito dell'udienza al TAR, la deputata di Leu, Giuseppina Occhio Nero, che vive e lavora in Basso Molise. È un segnale forte, ha detto, che a discapito dei tecnocrati e dei ragionieri riconosce il sacrosanto diritto alla salute, in questo caso a quella delle mamme e dei neonati, ma è anche il segnale che quando la battaglia viene condotta senza paletti politici i risultati arrivano.